Tu mi hai detto l'altro giorno no, perché lo possiamo anche lasciare al pipì, io ho detto no, no, no. Quando una persona non serve dobbiamo prendere una nel suo ruolo, non è che possiamo cominciare a copiare. No, ci poteva dare una mano per una cosa, no. E' discorso solo per quello, no, perché…